Buonasera a tutti e benvenuti a questo dibattito che cerca di mettere insieme due posizionamenti che spesso rischiano di scontrarsi o non incontrarsi adeguatamente e che però sono fondamentali nella pratica delle lotte e anche nel ragionamento, nella discussione che abbiamo necessità di fare costantemente per poter avanzare ed è appunto una dimensione teorica e una dimensione poi pratica. Con Alice del Gobbo andremo a comprendere quali sono le caratteristiche principali di una parola che magari per alcune e alcuni è già una parola conosciuta, ecofemminismo, ecotransfeminismo e mentre per altre e altri può essere una prospettiva nuova. Con Linda presenteremo il libro che ha scritto e andremo a capire anche quali sono state le motivazioni che hanno spinto alla redazione di un percorso così ricointeressante di tutte le lotte che qui Ermelinda, Donata e Giovanna rappresentano in modo importante, in particolare Donata e Giovanna rispetto a quella che è una delle condizioni terribili per cui Vicenza è conosciuta in tutta Europa, cioè l'inquinamento delle falde acquifere, il territorio da Pifas e Ermelinda per la lotta Notav che da tanti anni ha reso protagonista del territorio nazionale ma anche europeo la battaglia delle popolazioni che stanno resistendo contro un'opera inutile. Quindi questo era per farmi un attimo il quadro di come andremo ad affrontare le cose questa sera e iniziamo provando appunto a capire di che cosa parliamo nel momento in cui utilizziamo i termini come ecofemminismo, ecotransfemminismo e anzi sarebbe molto più giusto dire ecofemminismi, ecotransfemminismi perché parliamo di un approccio dal punto di vista teorico e poi anche pratico che nel tempo ha conosciuto una molteplicità di approcci e ovviamente la cosa che capiamo immediatamente è che questo nasce dall'intersezione tra il pensiero femminista e il pensiero ecologico. Quindi partendo da questa prospettiva di coloro che occupano uno spazio che è uno spazio marginale, che non è lo spazio centrale dato tendenzialmente all'uomo bianco europeo e abile, vediamo di capire che cosa unisce queste due prospettive e quanto l'intersezione tra queste sia fondamentale per per mettere insieme le lotte e anche portare avanti un fronte che sia ancora più forte. Quindi intanto chiedo ad Alice che cosa intendiamo per ecotransfemminismi. Grazie Gaia dell'introduzione, grazie dell'invito, sono veramente molto felice di essere qui e grazie a voi ovviamente che avete resistito fino alla fine del Climate Camp e che siete riusciti ad arrivare con questo tempo non particolarmente favorevole. Io intanto solo brevemente per posizionarmi, io sono ricercatrice all'Università di Trento e ho incontrato il tema dell'ecologia e del femminismo nel corso dei miei studi, della mia vita personale e dei miei rapporti che ho nel tempo instaurato con i movimenti e il mio coinvolgimento in essi. Quindi quello che vi dirò viene un po' da questo spazio, da questo mio posizionamento che ovviamente è un posizionamento che in qualche modo cerca di essere parte di una trasformazione collettiva e che forse cerchiamo di immaginare come qualcosa che va oltre l'aspetto meramente sociale ma che possa essere qualcosa che include anche aspetti che quando si è parlato di trasformazione, di rivoluzione, di cambiamento fino a qualche decennio fa non erano inclusi, non erano pensati sufficientemente. Quindi ecco, volevo solo iniziare facendo una piccola premessa nel senso che secondo me è quello che diceva Gaia all'inizio quando ho presentato il dibattito diceva che questi due orizzonti, il femminismo, i femminismi, i transfemminismi e il tema dell'ecologia non facilmente, non sempre si sono incrociati o quantomeno vengono dati per scontati, diciamo come due ambiti che si parlano. E una parte del motivo per cui questo avviene in un contesto come il nostro occidentale privilegiato dal mio punto di vista forse ha alcune radici storiche. Come prima cosa nei decenni, direi soprattutto della fine del secolo scorso la rappresentazione pubblica di quello che era l'ecologismo è stata soprattutto una rappresentazione che vedeva come soggetti che portavano avanti tra virgolette la protezione dell'ambiente e anche qui poi andrò un attimo a mettere in discussione questi concetti però come di una classe tendenzialmente media che aveva già acquisito alcuni privilegi tramite lo sviluppo e per cui poteva anche occuparsi della sfera dell'ambiente e quindi ecco questa idea che curarsi di tutto ciò che non è umano e di tutto ciò che non è sociale venisse solo dopo aver acquisito determinati privilegi e per questo motivo forse i soggetti principali che sono stati individuati come quelli che potevano portare avanti questo tipo di trasformazioni erano maggiormente maschili o comunque se femminili sempre femminili e privilegiati quindi dentro un certo contesto se vogliamo borghesi di classe media. E insieme a questa costruzione c'è anche stata quella di nuovo molto maschile e che però è molto forte tuttora che è l'idea che sia possibile rispondere alla crisi ecologica con delle risposte tecnologiche che è un po' la narrazione dominante oggi quanto si spinge anche con gli investimenti a livello di Unione Europea resto nel nord globale, resto nel nostro contesto per anche grandi opere inutili che poi vengono spacciate come delle cose ecologicamente sostenibili ecco anche qui ovviamente la narrazione viene da una scienza che è stata storicamente abitata e fatta da persone tendenzialmente uomini etero, cisgender, abitli eccetera eccetera e che quindi in qualche modo porta questo segno del maschile nel modo in cui si tratta il problema ecologico come appunto se fosse qualcosa di esterno come se fosse qualcosa di facilmente gestibile, misurabile, trasformabile attraverso delle tecnologie e appunto questo tipo di scienza chiaramente abbiamo anche delle narrazioni diverse rispetto a questo che sono venute direi anche molti decenni fa a partire soprattutto dagli anni 70 rispetto che sono quelle esperienze che nascono dall'ambientalismo operaio e quindi dall'esperienza incorporata di soggetti sicuramente non privilegiati che erano per l'appunto soprattutto operai che si battevano contro la nocività in fabbrica e per la prima volta proprio questo è molto interessante nel loro essere diciamo posizionati come corpi dentro degli ambienti degli ambienti nocivi hanno costituito questo ponte tra se stessi come esseri che ricevevano nocività e il resto dell'ambiente che altrettanto subiva gli effetti di questa nocività della tossicità eccetera e quindi questo è un po' il bagaglio che ci portiamo dietro scusate forse mi sono dilungata un po' troppo però era solo per dire che spesso ci portiamo questo bagaglio nel pensare alla questione ecologica e facciamo un po' fatica a vedere invece qual è la rilevanza dell'apporto femminile cosa che invece soprattutto secondo me nel sud globale è molto più evidente infatti molte delle prospettive che hanno portato l'ecofeminismo alla ribalta o il femminismo ecologico possiamo chiamarlo come vogliamo vengono soprattutto dal sud globale o comunque sono nate lì e quindi diciamo qui si pone un po' il problema del genere e in che senso? principalmente una delle cose uno dei nodi chiave che Gaia di nuovo ha menzionato prima rispetto al motivo per cui le donne hanno rivendicato un protagonismo un'importanza all'interno della sfera ecologica è stato proprio il tema della marginalità in un sistema come quello capitalista che è basato sull'ideale della produzione e quindi sul fatto che i soggetti privilegiati sono i soggetti maschi che sono quelli che partecipano a queste attività di produzione e produzione di valore sia le donne che i soggetti razzializzati i soggetti indigeni che quelli non abili eccetera eccetera sono tutti quegli soggetti marginalizzati rispetto a questo privilegio quelli che Stefania Barca chiama i soggetti della riproduzione invece che della produzione si sono trovati in qualche modo alleati alleati tra virgolette naturali ma naturali storicamente nel senso che quello che un po' l'ecofeminismo ha cercato di mettere in evidenza e tra l'altro l'ecofeminismo tanto qua o ecotransfeminismo tanto quanto tutta una serie di critiche che vengono dal femminismo marxista che sono anche parte della tra virgolette più nostra tradizione che mettono in evidenza come tutta quella critica che è stata fatta al capitalismo come un sistema di sfruttamento non metta abbastanza in evidenza come questo sistema si regge sull'appropriazione gratuita di un tipo di lavoro o di risorse che sono non pagate diversamente dal lavoro salariato che ha sfruttato il lavoro delle donne tanto quanto il lavoro della natura tanto quanto quello per esempio dei soggetti razzializzati gli schiavi nelle piantagioni e nelle diverse forme di schiavitù che si susseguono nel tempo hanno un che di comune sono quella base che è una base materiale è una base costantemente svalorizzata della produzione di valore capitalista e che non viene vista e ecco da qui nasce un po' questa questa alleanza questa idea che sia possibile portare avanti una lotta dal punto di vista femminista che sia anche ecologista e scusate chiudo perché ho già parlato troppo il punto chiave qui è proprio questo concetto di riproduzione o anche di cura che sono due concetti diversi su cui però non andrò proprio in profondità però questa idea che sia la natura non umana che le donne nella quotidianità e anche nel senso storico più ampio sono coloro che diversamente dai soggetti chiamiamoli così salariati che producono nell'economia formale sono coloro che si occupano di riprodurre la vita cioè invece di produrre merci riproducono la vita e spesso portano diciamo riparazione al danno che invece il sistema produttivo porta e che quindi sono quelli che stando nei corpi e collegandosi alla materialità della loro vita prima di tutto in realtà subiscono maggiormente il danno ecologico ma sono anche coloro che hanno gli strumenti le pratiche e che quotidianamente fanno le pratiche di riparazioni le pratiche di cura le pratiche che permettono al vivente in qualche modo se vogliamo di fiorire quindi solo brevemente finendo rispetto al tema della guerra che secondo me è molto interessante che sappiamo essere diciamo una pratica distruttiva sia a livello umano che anche a livello ecologico anche la guerra e le esperienze delle donne in guerra spesso richiamano questa cosa le donne nella gran parte dei casi sono coloro che sono maggiormente calate nella materialità della quotidianità e quindi anche del dolore e della necessità di prendersi cura e che per questo motivo spesso sono contrarie al fatto di perseguire per mezzi in modi così distruttivi anche se vogliamo degli obiettivi che sono completamente vissuti come molto astratti molto lontani dalla vita vissuta ecco questo radicamento che le donne portano nel corpo nella materialità della vita secondo me è un punto molto importante nella costruzione di un'idea anche nuova se vogliamo di cura che possa essere trasformativa e rivoluzionale grazie mille Alice che come sempre ci delinei un quadro importante e ci dai degli elementi che poi ci servono anche nella riflessione collettiva e penso anche individuale adesso passiamo la parola a Linda Maggioni che appunto è l'autrice di un libro di cui dovevamo avere le copie ma purtroppo i problemi con la rete ferroviaria ce l'hanno impedito e ti chiedo appunto tu parti un po' dalla tua esperienza personale nella scelta di scrivere questo libro un libro che parla delle lotte di donne dalla Val di Susa passando per l'Abruzzo arrivando alla Sardegna che sono lotte che dimostrano proprio come le politiche ecofeministe siano politiche estremamente concrete sono come diceva prima Alice politiche contro la nocività dei territori contro le ingiustizie ambientali che tra l'altro poi si si focalizzano e attaccano maggiormente i soggetti più fragili i bambini le persone piccole gli anziani le persone anziane le donne insomma anche da questo punto di vista c'è una divisione in base al proprio posizionamento nella società quindi quello che ti chiedo è da come nasce questo libro e poi appunto come queste forme di lotta siano un'evidenza tangibile di quello che abbiamo di quello di cui Alice parlava fino adesso dal punto di vista ecofeminista ok grazie grazie a tutti e non so se mi sentite ecco mi dispiace appunto di non essere lì ero arrivata a Bologna proprio con i vari treni però lo sciopero praticamente è stato qua praticamente totale quindi non sono veramente riuscita e mi dispiace moltissimo quindi perdonatemi e allora sì per quanto riguarda ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Alice giusto e veramente sono assolutamente d'accordo con la sua lettura e proprio in questo in questo libro ho raccolto sia appunto io come esperienza appunto diciamo che la mia passione per l'ambiente per appunto la tutela della natura è nata anche grazie al è nata anche in seguito no alla maternità cosa che non è assolutamente per tutte le donne quindi qui appunto bisogna anche un po' sottolineare come appunto la diciamo la tutela la cura della natura ovviamente non è strettamente legata alla maternità biologica in senso stretto ma a una diciamo maternità più ampia infatti nel libro c'è anche tante donne che non sono madri ma che si sentono appunto madri di tutti è un po' come il concetto della madre terra no e quello che appunto però è assolutamente vero è che dal momento in cui comunque si mettono al mondo dei figli cioè in qualche modo si sa da una parte che se si vive in zone contaminate come per nelle zone contaminate da Pfas o a Taranto o a Brescia o appunto purtroppo in tante zone che in Italia ce ne sono veramente tantissime di questi siti altamente contaminati si sa che si passano dei veleni si passano i veleni al proprio figlio nel momento appunto della sia della gestazione anche che appunto dell'allattamento e questo è già un dilemma no atroce che vivono le madri e e proprio anche per questo proprio anche nel poi nel vederli crescere nel cercare di tutelarli no del nella vita di tutti i giorni queste donne anche se inizialmente magari non avevano una grande passione o un grande interesse per l'ambiente di fatto poi lo iniziano a comprendere quindi c'è anche una sorta di emancipazione che ho io ho intervistato tantissime donne dal nord al sud d'Italia e la cosa bella che veramente ho visto che grazie alle lotte ambientaliste queste donne si sono molte di queste donne si sono emancipate ho parlato ad esempio con delle donne ad esempio in questi subordi della terra dei fuochi e loro stessi dicevano noi eravamo delle semplici casalinghe non eravamo interessate a nulla poi questa siamo arrivati a parlare a Bruxelles al Parlamento europeo quindi veramente una grandissima anche scuola popolare che in tante zone è stata fatta ad esempio ricordo le donne i presidi i presidi della TAP contro la TAP nel Salento erano appunto presidi dove le donne erano l'anima forte di questi presidi come nella Val di Susa e in queste zone e in questi presidi oltre che appunto una diciamo autoformazione collettiva proprio una vera e propria scuola popolare si faceva appunto una appunto veramente autocoscienza autoconsapevolezza quindi si in qualche modo aumenta anche appunto la consapevolezza delle donne della loro forza della loro emancipazione nel libro ho raccontato appunto delle donne del Vicentino poi appunto anche Donata potrà dire perché anche appunto si parla anche di Donata di tutto il percorso anche nelle scuole di sensibilizzazione le donne di Taranto scusate scusate le donne di Taranto e le madri ad esempio le donne della Basilicata zone inquinate dal petrolio che lottano appunto contro giganti come Ennis Shell quindi anche questo scontrarsi da parte dei movimenti popolari contro delle multinazionali che ovviamente hanno tutte le armi a disposizione da quelle legali ecco a quelle meno legali le mamme contro contro lo smog poi anche perché non dimentichiamo che viviamo comunque in zone estremamente contaminate anche a causa appunto di questa cappa di smog che appunto va da Torino a Milano a tutta la pianura padana le donne che vivono vicino i cementifici le donne di Siracusa del petrolchimico di Falconara il prossimo mese ci sarà il G7 sulla salute ad Ancona il G7 della salute ad Ancona e per assurdo verrà fatto in una delle zone più contaminate in una zona SIN in Italia ci sono almeno 46 zone SIN che vuol dire siti di interesse nazionale ai fini della bonifica diciamo che avrei dovuto scrivere altri tre o quattro libri per raccontarli tutte purtroppo ci vivono secondo dati appunto dati nazionali ci vivono 6 milioni di italiani in queste zone altamente contaminate quindi il 10% della popolazione italiana vive in condizioni di rischio inaccettabili per un paese civile e quindi è veramente una strada drammatica e in tante di queste zone purtroppo si ripropone quello che è il ricatto lavorativo cioè o se vuoi la salute poi non hai il lavoro ecco e per questo ricatto lavorativo questo circolo vizioso sono proprio le donne a romperlo ecco e questa è un'altra grande forza che ritroviamo che non solo appunto il grande legame come diceva Alice con il corpo e con la terra ci permette di capire di avere più lungimiranza in qualche modo che non è il profitto a breve termine ma è anche questo di essere diciamo più libere da questo ricatto salute lavoro ovviamente tutte queste cose non dovrebbero essere prerogativa delle donne ma dovrebbero essere di tutti ecco quindi ecco questo è ovviamente nel libro ovviamente diciamo che ho intervistato anche molti uomini proprio perché vogliamo parlare anche della parte femminile degli uomini che è quella della tutela e della cura e quindi insomma non è una questione di genere ma una questione proprio di sensibilità non so se poi magari ci sono altre domande posso rapprofondire altri temi sì poi certo facciamo un altro giro grazie a Linda e adesso una domanda semplice ma che poi è centrale anche per raccontare le lotte di cui abbiamo accennato fino adesso è rivolta a Ermelinda Donata e Giovanna e cioè se a turno ci raccontate proprio qual è stata anche la genesi di questi movimenti che hanno per quanto poi magari non c'è un riconoscimento anche non c'è per forza un guardarsi su un piano teorico e dire sì siamo ecco femministe o cose del genere ma che nella fattività lo sono non lo so se vogliamo partire dalla Val di Susa così poi torniamo a Vicenza e quindi Ermelinda se vuoi raccontare tu intanto e grazie per il collegamento dalle valli grazie a voi per l'invito e saluto chi ascolta e sintetizzare la storia del movimento Notab è un po' lunga perché è un movimento che dura da più di 30 anni io stessa lo vivo dal 96 quindi da un bel po' di anni è nata è una lotta che è nata come una lotta ecologista perché all'inizio l'impatto che l'opera avrebbe avuto sulla nostra valle la intendevamo in termini di rumori di montagne scavate montagne pericolose perché hanno amianto uranio poi negli anni in tutti questi anni abbiamo capito che era anche una lotta politica una lotta contro il modello di sviluppo insomma negli anni si è arricchita di argomenti se invece di perderli insomma abbiamo aumentato le motivazioni abbiamo cominciato questa lotta a innanzitutto facendo della controinformazione perché naturalmente ci dicono che l'opera era importante che la vuole l'Europa che era fondamentale per lo sviluppo dell'Italia e del Piemonte e dell'Italia tutta e che noi insomma eravamo dei trogoditi che non ferravamo il senso del progresso e volevamo rimanere insomma col tunnel di Cavour come ci dicono spesso in realtà in parte lo stanno anche già facendo devastando i nostri territori perché se è vero che non è stato scavato ancora un metro del tunnel quello di 57 km andate e ritorno fra noi e la Francia intanto si stanno attuando delle opere diciamo che servono delle opere che servono alla grande opera che quindi sono espropri di territori abbattimento di piante e circolazione sulle nostre strade dei camion che portano gli esiti di questi scavi tossici e che quindi ci stanno avvelenando parecchio l'esistenza vedo che quando parliamo poi tra donne cogliamo sempre tutte le stesse cose anche negli interventi che mi hanno preceduto aver partito le donne all'interno del movimento notave hanno avuto sempre un ruolo molto importante da più punti di vista non solo perché all'inizio siamo state le anime dei presidi abbiamo ci siamo presi cura di questi presidi di queste strutture che abbiamo messo stu per organizzarci per organizzare la lotta e resistere agli espropri però c'erano anche delle donne nel pool dei tecnici abbiamo delle donne nel pool degli avvocati che ci difendono dagli attacchi della magistratura e siamo presenti diciamo capillarmente su tutti gli aspetti anche sulla comunicazione della nostra della nostra lotta e tante donne giustamente come è stato detto prima si sono emancipate durante la lotta si sono emancipate donne che a un certo punto hanno anche avuto problemi in famiglia perché venivano a cucinare per i presidi e magari non cucinavano più per i mariti queste cose piccole hanno creato secondo me un'emancipazione reale che non definisco femminista perché tante di queste donne non si definiscono femministe ma una pratica reale di autonomia di consapevolezza e di protagonismo che quindi è molto importante e dà i suoi frutti credo che in tutte le lotte se non c'è la partecipazione delle donne di solito sono delle lotte che si esauriscono a breve invece le donne danno continuità per molti aspetti alle lotte e poi creano anche un ambiente all'interno della lotta un ambiente più sereno un ambiente più corretto un ambiente meno sessista tutte cose che io ho raccolto in questi anni perché mentre mi è capitato di sentire o di avere accesso insomma di viverlo direttamente di situazioni anche sessiste all'interno dei movimenti all'interno del movimento notavo ancora cose plateali molto scorrette da parte dei maschi nei nostri confronti non si sono ancora date e questo secondo me è perché noi siamo presenti perché quando siamo presenti abbiamo la nostra importanza e veniamo rispettate per il fatto che siamo presenti questo considerando che viviamo in un paese sessista dove insomma non c'è bisogno penso di dover spiegare perché sottolineo positivamente questi aspetti abbiamo sempre negli anni abbiamo anche provato a raccoglierci come donne a fare delle riunioni separate per alcuni periodi abbiamo anche tirato su proprio dei collettivi di donne che si occupavano della lotta facendo dei ragionamenti separati però poi alla fine questi esperimenti hanno avuto dei picchi di attività e poi si sono sempre un po' spenti come ambiti organizzati voglio dire invece nella normalità di tutti i giorni continuiamo a essere presenti nel misto cercando partecipando come ci sentiamo dicendo la nostra e decidendo anche noi le cose che riguardano anche la nostra esistenza e da subito abbiamo abbiamo sempre fatto un parallelo tra lo sfruttamento della terra e lo sfruttamento del corpo delle donne abbiamo trovato in questo proprio un'affinità pazzesca di come i nostri corpi vengono il valore dei nostri corpi viene sfruttato dai maschi e il valore della terra viene sfruttato dai maschi padroni e quindi un po' come se fosse abbastanza spontaneo per noi difenderla la terra curarla perché è un po' come se ci prendevamo cura anche di noi stesse quindi un legame fortissimo penso che poi non so su questi argomenti ogni tanto alcune femministe polemizzano quando magari io dico che è nella nostra è nel nostro essere questa necessità della cura della riparazione del tener conto del tenere insieme del tener conto ma se anche fosse diciamo un qualcosa che ci è stato inculcato questo è un qualcosa di buono che io manterrei e che mi piacerebbe anzi come dire espandere al dato maschile al campo maschile è proprio questo della cura tra l'altro nei nostri tesi di queste cose le abbiamo anche un po' perché tante attività che prima facevamo solo noi adesso le fanno anche i maschi la cucina innanzitutto e quindi pensiamo sia anche una cosa buona poter andare noi alle barricate e tornare e mangiare la polenta che hanno preparato i maschi anche questo secondo me è un un grazie che dobbiamo dire a questa nostra lotta che sarà ancora purtroppo lunga e che però magari unendo le forze di tutte queste lotte territoriali che ci sono in Italia ma in tutto il mondo magari possiamo contare un po' di più e arrivare da qualche parte insieme grazie mille Ermelina passo subito la parola a Giovanna ok allora posso fare la parola donata grazie buongiorno a tutti anch'io ringrazio per l'invito e faccio i complimenti sinceri per la creatività con cui questo camp ha organizzato la lotta e la resistenza a Vicenza credo che sia un'esperienza noi che la cerchiamo di portare nelle scuole da espandere veramente interessante ringrazio anche Linda per avermi citata e per avermi portata nel suo libro credo che il suo libro sia fondamentale perché parla veramente della forza delle donne quando si uniscono la rete e infatti anche noi cerchiamo adesso di fare rete fra docenti e fra studenti mi presento io abito ad Arzignano è il cuore del distretto conciario quando si parlava di Arzignano fino a qualche anno fa si diceva la spussa di Schei ecco abito ad Arzignano e da 11 anni io mastico con rabbia la tematica di FAS forse qualcuno non lo sa mi pare impossibile ma comunque sono quelle sostanze chimiche eterne quel veleno invisibile che ha contaminato la seconda falda più grande d'Europa e che ha contaminato voi me sicuramente anche voi 350.000 persone ma potenzialmente tutto il Veneto quindi 800.000 persone ripeto io mi indigno e mi sono indignata una delle ragioni anche del mio attivismo mi indigno vedendo e constatando che una falda grande viene inquinata quando l'acqua bene comune elemento prezioso sta diminuendo in tutto il mondo a causa del cambiamento climatico e questo inquinamento avviene per una normativa non adeguata io ho il sangue Eifas me ne sono accorta perché nel 2015 privatamente perché Arzignano allora era fuori dalla zona cosiddetta a rischio perché chi disturba un distretto conciario allora non fidandomi dell'istituzione privatamente esisteva ancora nel 2015 la possibilità di fare privatamente l'analisi in Italia e là ho scoperto io e mio marito che l'abbiamo fatto abbiamo scoperto di avere Iifas nel sangue queste analisi le ho ripetute l'anno scorso sempre privatamente perché non rientravo nelle categorie volute dalla regione e le ho fatte all'estero scoprendo ancora una volta che ho Iifas figuratevi i miei concittadini Arzignano e la Vallata che si credevano al sicuro noi abbiamo cominciato nel 2013 fra l'altro a fare pressione e informazione ai cittadini e dal 2015 avevamo un elemento in più perché noi avevamo il sangue contaminato ma allora ci dicevano che eravamo allarmisti questa è un pochino la mia storia io nella lotta non 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 mi considero perché qualche giornalista intervistandoli mi ha detto che sono una mamma non fassa io sono una mamma e sono anche nonna però mi sento stretta in questa definizione perché per me essere mamma è stata una scelta privata io mi considero una donna una donna e una cittadina una donna non fassa una cittadina non fassa una donna in lotta una cittadina in lotta una cittadina attiva con il movimento con il movimento delle mamme io sono in collegamento e abbiamo dei rapporti bellissimi perché intanto ho conosciuto il quadro storico nel 2017 e quando è venuto a Montecchio a fare la prima riunione a chiedere a noi che eravamo già un po' coordinati dal 2014 a chiederci che cosa Erni fosse che cosa si poteva fare ma c'è un obiettivo che ci lega e che è comune il mantenimento della vita e quindi grazie e quindi la difesa della vita questo è l'obiettivo che ci ha accumulato e che ci comuna anche oggi io sono portavoce di un'associazione ecologista Cilsa ad Arzignano nata nella fine del 2012 proprio perché si voleva fare un inceneritore nel nostro comune e l'abbiamo abbiamo vinto la battaglia finora non sono riusciti una parte di conciare e costruire l'inceneritore ad Arzignano ma nel 2013 anche Cilsa è stata presa dalla battaglia da portare avanti sui FAS sempre nella mia storia al di là della lotta che da sempre conduciamo come Cilsa ho ricevuto e ho accettato il mandato dal movimento non FAS che nel frattempo cominciava a crescere a crescere e a entrare sempre più nella fase della lotta e si era arricchito della presenza delle mamme che erano scese nel 2017 ma poi ne parlerà Giovanna credo e ho accettato l'invito nel 2018 ad entrare nelle scuole e quindi a formare un gruppo educativo Zero FAS del Veneto formato da esperti del movimento esperti che si identificavano nei medici medici ISDE medici per l'ambiente esperti che si identificavano in professori universitari in ex funzionari dell'ARPAV in geologi esperti di tutto rispetto con competenze visibili e poi anche da attivisti perché nel nostro disegno nella nostra preoccupazione era informare gli studenti ma anche metterli a contatto uno scambio intergenerazionale perché abbiamo scelto di entrare nelle scuole da una parte perché le donne gravide le donne in maternità e i bambini sono il target più colpito dai FAS per le loro caratteristiche adesso non entro nel merito non sono un medico ma comunque le loro caratteristiche giocano nel tempo e producono delle gravi malformazioni anche nelle donne e producono aborti e possono provocare dei danni permanenti anche ai bambini allora essendo i target più colpito ed essendo le istituzioni nel silenzio totale di quelle che erano le cause e tendevano a tranquillizzare la popolazione abbiamo pensato noi anche noi con la controinformazione questo da un lato controinformazione e preoccupazione per i bambini per i ragazzi per i giovani le nuove generazioni sono sei anni consecutivi che entriamo nelle scuole e guardate che non è stato facile perché noi non abbiamo alle spalle le istituzioni non abbiamo fondi dal ministero non abbiamo fondi dalle regioni dalle province dai comuni anzi abbiamo scoperto che c'erano anche delle circolare di provveditorati che spingevano le dirigenze scolastiche a non accogliere non potevano parlare male di noi ma comunque prima di accogliere noi di accogliere i loro esperti che provenivano dal mondo universitario e vi dicendo questa noi ci siamo conquistati il terreno sul campo da prima abbiamo combattuto la diffidenza e poi le competenze degli esperti e i dati che portavamo non attaccabili perché ci servivamo di documenti e ci serviamo di documenti legali di quello che sta succedendo perché noi denunciamo la situazione dei FAS ma anche ah beh ma anche denunciamo la corresponsabilità chi non solo gli inquinatori ma chi ha taciuto chi ha permesso questa è la nostra posizione e comunque abbiamo già incontrato 40 scuole nel Veneto e la credibilità significa che 13 di queste ci hanno accolto per 3-4 anni consecutivi abbiamo già incontrato 8500 studenti delle scuole secondarie e 1500 adulti noi seminiamo forse i risultati non li vediamo subito il nostro obiettivo generale è quello di mettere al bando i FAS e questo è anche nel titolo del progetto che portiamo avanti quest'anno ma in realtà noi puntiamo diciamo sempre con gli studenti conoscere per capire e agire prima il sapere se non sei informato non sei nulla informiamo poi il punto principale è prendere coscienza prendere coscienza di quello che ti dicono entrare nel merito e poi dalla presa di coscienza agire solo l'azione può dare speranza non può esserci la speranza prima dell'azione io non posso sperare un cambiamento se non agisco è questo che noi tentiamo e facciamo e quindi sono gli stessi ragazzi che sono colpiti dal fatto che i FAS danno e sono una minaccia per le donne in gravidanza sono i ragazzi a capire che nessuna analisi può essere fatta nel Veneto nel sangue sono i ragazzi a capire che tanti aborti sono dovuti all'IFAS o che loro sono a rischio nella fertilità da adulti questi sono i dati e questa è la presa di coscienza che noi creiamo ci sono anche scuole del Vicentino e io sono venuta qua a dire la verità forse entrava nella seconda parte però io sono venuta anche qua perché noi abbiamo bisogno della vostra pubblicità noi entriamo gratis nelle scuole spendiamo tempo energie ma crediamo nel lavoro che facciamo voi se avete conoscenze di insegnanti se avete conoscenza di dirigenti se avete conoscenza di persone che lavorano nelle scuole aiutateci a entrare lo facciamo per i vostri figli dei nostri figli grazie ciao a tutti io mi chiamo Giovanna intanto sono felice di essere in mezzo a voi giovani mi piace tanto e vi ringrazio perché ci siete l'esserci non è scontato perché non è scontato perché tante volte esserci è anche scomodo a me è capitato in questa vicenda dei FAS io sono mamma di cinque figli e ho anche adesso due nipoti e quindi sono anche nonna e i miei figli e io stessa e anche mio marito abbiamo il sangue contaminato da FAS con valori anche altissimi perché? perché abbiamo bevuto e mangiato acqua e cibi contaminati senza saperlo e questa è stata un'ingiustizia che abbiamo subito perché avere delle molecole chimiche che non esistono in natura ma che servono per impermeabilizzare in particolare ecco non solo ma sono state utilizzate all'inizio e tuttora vengono utilizzate per impermeabilizzare indumenti scarpe padelli antiaderenti e poi sono anche utilizzate in tanti altri ma non sono state utilizzate per essere ingerite e quindi scusate è partita scusate ecco non sono state utilizzate per essere ingerite quindi non è un cibo è una molecola chimica quindi per questa ingiustizia mi sono ritrovata a un bivio cosa faccio io? io so che i miei figli hanno nel sangue queste cose e nessuno ti dice con certezza se fanno bene o non fanno bene tanti medici all'inizio non sapevano neanche cosa fossero però tu sai che è una cosa estranea come un granello di sabbia che è nei tuoi occhi e che ti dà fastidio e anche ti fa paura perché non sai cosa può produrre e allora tu cosa fai? due erano le strade o far finta di niente e buttare via questo problema perché comunque era un pensiero nella tua testa che ti dava preoccupazione oppure era affrontare e come? come sapevi fare? come potevi fare? con i mezzi e con quello che tu sei? e allora serve un po' di coraggio e dov'è che ce l'hai nel coraggio? quando cerchi la compagnia di qualcuno che condivide la tua stessa preoccupazione a questa domanda chi di noi non sarebbe preoccupato sapere per se stesso o per i propri figli che c'è nel sangue qualcosa che è entrato che è utilizzato per la chimica chi? io credo che questa sia una preoccupazione condivisa condivisa da tutti e che nessuno può dire no non è vero e chi dice che non è vero è perché opta per la seconda soluzione non ci penso perché è una rogna ne ho già tante da fare ecco che per noi è partita non tanto una battaglia perché sai quando parli con i bambini o con i figli io sto facendo una battaglia tu inciti a qualcosa che comunque è negativo e così noi abbiamo detto lavoriamo lavoriamo per cercare la verità e per stimolare delle soluzioni se queste cose fanno male allora prima di tutto andiamo in cerca della verità e quindi alla conoscenza giustamente Donata ha detto se tu conosci e sei consapevole poi puoi anche agire e così ci siamo messi insieme ognuna ha messo le sue caratteristiche i suoi doti e ci siamo messi a lavorare lavorare non solo di giorno nel nostro lavoro quotidiano perché tutte abbiamo un'occupazione no? non siamo solo casalinghe impiegate infermiere chi lavora come operaio chi lavora nelle scuole insomma tutti abbiamo un'occupazione ma la prima nostra occupazione è la cura dei figli e abbiamo cercato poi la protezione dei papà perché tante volte ci siamo detti noi ci prendiamo cura ma chi ci può proteggere? di solito la protezione la identifichiamo con la forza no? tu mi proteggi perché sei forte il papà ti protegge perché è forte ti tiene in braccio lui ti tiene sicuro la mamma magari ti rassicura e abbiamo stimolato questa protezione da chi? dalle istituzioni sei tu che sei chi ha detto a proteggere le istituzioni ma non solo le istituzioni locali regionali e anche ora ci stiamo impegnando per una legge e quindi nazionali per proteggere noi mamme ci prendiamo cura tutti ci dobbiamo prendere cura perché giustamente se non anche non abbiamo figli abbiamo un corpo a cui dare le nostre cure ma abbiamo anche il senso dell'apertura all'altro che non solo come essere umano ma anche come ambiente prenderci cura dei nostri ambienti e questo dà la dignità dell'uomo e questa è la seconda cosa che vogliamo insegnare ai nostri figli vogliamo insegnare a loro a lavorare per cercare la verità per conoscere perché è dignitoso e allora secondo il modello di tutti ci chiedono poi e cos'è che hai in cambio che sono sette anni mamma che tu sei lì che lavori per cercare la verità e per fare in modo che qualcuno ti protegga o ci protegga e non trovi niente beh perché abbiamo fatto il nostro dovere io goddo di fare il mio dovere quindi ecco se vogliamo dire in poche parole è una realtà che dobbiamo prendere coscienza di una realtà che non ci deve spaventare una realtà che deve essere approfondita in conoscenza e poi prendere le dovute scelte e agire giustamente come diceva Donata e questo compete a tutti a tutti perché siamo degli esseri umani e gli esseri umani hanno una mente che può anche razionare e ragionare e dare alito soprattutto a cosa a un bene che vogliamo tutti ecco perché quello che è bene per me è bene anche per chi mi è accanto ma per tutto il mondo e cos'è che allora ci stiamo augurando ci stiamo augurando che questo continuo lavorio questo continuo dialogo per stimolare la protezione per stimolare la ricerca per stimolare anche l'azione porti un bene riconosciuto ma anche un bene di cui esserne grati ecco e che ci ritorni come dignità umana per essersi per sentirci veramente uomini grazie a tutte per questo primo giro adesso andremo un po' ad approfondire probabilmente qualcosa che anche metterà già mi sembra che sia emerso nei vari interventi delle posizioni diverse probabilmente anche profondamente diverse ed è un po' proviamo a mettere in discussione questo concetto di donna e natura no? di questo binomio che sembra che debba sempre naturalmente essere concatenato posso che anche quando parliamo di natura forse anche quel concetto stesso dobbiamo mettere in discussione ma apriremo un file che non abbiamo il tempo di esaurire quindi appunto le donne sono intrinsecamente considerate vicine e naturalmente capaci di proteggere la natura e vengono viste esattamente quanto vengono viste nello stesso modo e da parte di chi poi sfrutta i corpi femminili così come l'ambiente cioè inerti fragili da plasmare utilizzare rispetto a quelle che sono le necessità del del capitalismo eppure dall'altra il legame anche che con la natura o comunque col mondo che ci circonda col mondo non umano storicamente è stato costruito è stato sottratto perché non stava ai dettami del sapere maschile di cui Alice parlava prima quindi proviamo un po' intanto chiedo ad Alice di inquadrare un po' anche insomma la discussione da un punto di vista teorico e a Linda anche a partire da quello che ci derà Alice di appunto portare anche quella che che è stata la sua esperienza di ricerca di questa dicotomia di questa vicinanza ma anche potenziale lontananza tra le donne e la natura e alle nostre tre militanti attiviste di raccontarci a partire anche da quello che diremo adesso quali possono essere le prospettive dei movimenti grazie allora faccio di nuovo una piccola premessa nel senso che mi è piaciuto molto sentire quello che diceva Ermelinda perché l'ha proprio esplicitato che c'è questo un po' questa tensione tra diversi femminismi e diversi modi di essere femminista o anche di non essere femminista ma di essere donne riguardo a questo tema che è una cosa che a me interessa molto cercherò adesso brevemente perché il tempo è quello che è di portare un mio contributo che è il mio e ecco non vuole insomma è molto posizionato però è dialogante ecco quindi come prima cosa allora sicuramente grazie che avete fatto una parte di quello che volevo fare io c'è un po' diamo per scontato questa vicinanza tra donna e natura che sicuramente è anche un lascito storico culturale dell'occidente e della modernità che proprio si basa un po' su questa divisione questa distinzione tra l'uomo e la donna tra la natura e l'umano o quello che è sociale e la cultura e in realtà dentro questa questo continuo creare divisioni che appunto noi diamo molto per scontate le naturalizziamo pensiamo che siano naturali però se andiamo a vedere altre culture trattano molto diversamente le differenze che pur naturalmente esistono dentro questa questa costruzione questa grande costruzione culturale tendiamo quello che è stato fatto ecco più che quello che tendiamo a fare che magari è diverso ma quello che è stato fatto storicamente nella cultura occidentale è stato proprio questa questa idea di portare avanti un'idea di qualcosa che è superiore che è l'umano che normalmente è stato identificato con l'uomo cisgenderabile razionale e anche proprietario e è tutto ciò che non è umano ovviamente la natura in primo luogo ma le donne insieme alla natura le donne infatti per l'appunto storicamente sono state individuate come quei soggetti più vicini alla natura perché portano sono dei soggetti della riproduzione portano delle altre creature nella pancia se ne prendono cura e ecco e allo stesso tempo nel fare questo storicamente le donne sono state anche quelle che si sono prese cura degli ambienti più prossimi hanno anche a livello mondiale oggi le donne sono tra le prime che si occupano della sussistenza a livello di produzione di cibo di cura delle foreste eccetera eccetera per dire come poi questo legame che appunto è stato costruito come naturale poi in qualche modo si è naturalizzato cioè è successo è vero che le donne per tanti versi sono quei soggetti lì quelli che maggiormente praticano la cura nella loro quotidianità che sia cura per l'umano e cura per il non umano sono quelle che tutti i giorni danno più pensiero a come posso fare per curarmi dell'ambiente come appunto posso mettere in atto delle pratiche più salutari per le persone della mia famiglia eccetera quindi c'è questa c'è questa pratica quotidiana della cura che è umana e che è non umana insieme e e quindi questo è un fatto è un dato è un dato reale che io non voglio assolutamente mettere in discussione quello che però voglio mettere in discussione come diciamo per il mio posizionamento sia politico che personale che intellettuale anche se vogliamo è l'idea che questo legame sia effettivamente naturale cioè che sia qualcosa di intrinseco alle donne e invece quello che mi piacerebbe cercare di sottolineare è che si tratta del frutto appunto di una costruzione culturale che di una costruzione culturale che da un lato come diceva anche Ermelin come le altre testimonianze che sono state portate evidenziano è assolutamente positivo utile importante per la lotta ecologista e dall'altro lato però dobbiamo trattare secondo me con molta cura perché può portare a delle forme di femminismo o meglio neanche di femminismo ma di discorso rispetto alla vicinanza tra le donne nella natura che sono molto regressive uno di queste può essere il fatto che allora ah vabbè ma se è così allora le donne sono naturalmente devono naturalmente essere coloro che si fanno carico di tutto questo lavoro di cura che peraltro è un lavoro di cura molto drenante molto pesante non è soltanto e che nelle società in cui viviamo è assolutamente non riconosciuto svalorizzato non visto e quant'altro e allo stesso tempo come dire le donne allora a questo punto non devono accedere a quelle sfere anche di sapere di pratiche che sono più valorizzate che sono invece quelle magari più legate appunto alla scienza alla politica in senso istituzionale e quant'altro e quello che mi sembra che viene fatto in questo contesto generale è quello che si chiama un po' la femminilizzazione della natura e la naturalizzazione della donna cosa vuol dire c'è questo legame la natura viene identificata come qualcosa di esterno diverso fragile che deve essere curato e allo stesso tempo però che è così potente che sarà sempre in grado di perdonarci di accogliere i nostri errori e quindi la natura è di nuovo come la moglie se vogliamo che sta a casa aspetta il marito si prende anche le sue botte i suoi tradimenti e però costantemente lo aspetta costantemente è lì e costantemente perdona e dall'altro lato la donna per l'appunto come abbiamo già detto viene identificata come questo soggetto come questo corpo più naturale che civilizzato ecco mettiamola così questo dal mio punto di vista è un punto che può portare a dei pericoli molto regressivi perché non si vede l'aspetto terrificante della natura non si vede quanto la natura non umana sia capace si toglie anche la capacità di agire alla natura non umana come anche tra virgolette contro ciò che gli uomini le infliggono costantemente dall'altro lato appunto si immagina la donna come questo soggetto non capace di agire non capace di lottare e quindi a me piace sempre dire che la prospettiva ecofeminista che comunque nasce dall'ecofeminismo va verso appunto un'idea di transfeminismo ma soprattutto verso la decostruzione la negazione in qualche modo il dire no forse queste due sfere separate della donna e della natura di per sé non esistono bisogna andare o sono o quantomeno le possiamo le possiamo conoscere in un dato periodo storico però possono cambiare possono diventare qualcosa di diverso e allora secondo me la potenzialità qui è quella di immaginare come per esempio la l'esperienza che è quella che è diventata della donna in quanto soggetto di cura può essere un'esperienza condivisa oltre la donna può essere condivisa dagli uomini ma può essere condivisa da soggetti non binari trans e quant'altro soprattutto il fatto di uscire dalla naturalità dell'essere donna o dell'essere uomo è anche quello che ci permette di aprire le nostre ecologie a forme queer forme aperte forme non binarie non definite che sono quelle che poi peraltro ecco sempre perché mi piace sottolineare come l'essere donna non vuol dire essere legate necessariamente alle necessità materiali della quotidianità la scienza femminista o gli studi sulla scienza femminista sono quelli che maggiormente hanno portato in evidenza che la natura stessa è sempre molto più aperta molto meno definita di come piace a noi guardarla perché le divisioni che creiamo culturalmente sono quelle che poi ci aiutano a mantenere un determinato ordine sociale e quindi ecco insomma senza potermi dilungare molto quello che a me piacerebbe partendo dall'esperienza delle donne e anche delle persone trans non binarie e quant'altro è proprio quello di cominciare a vedere la natura in un senso non esterno ma anche nel senso di qualcosa di costantemente cioè che sempre si mette in relazione con l'umano e che non è veramente distinta dall'umano quindi cercare di andare un po' oltre tutte queste distinzioni così nette così forti che che hanno un po' strutturato il nostro modo di vedere e quindi di riconoscere dentro noi stessi e dentro noi stessi la natura che siamo uomini che siamo donne o che siamo tutto ciò che c'è in mezzo e o che ci identifichiamo come tali e e allo stesso tempo quindi a partire da questo avere la capacità di immaginare le lotte e le lotte ecologiche come fatte dentro queste queste forme di alleanza che sono sia all'interno del nostro dei nostri gruppi sociali che con con ciò che non è esattamente o più evidentemente sociale vai Linda ok allora sì la domanda è veramente molto interessante diciamo che appunto è una delle cose che magari cioè secondo me bisognerebbe adesso mi ero trovata alcuni pasti che vi volevo leggere proprio per far capire che fondamentalmente non cioè è diverso dire la donna legata alla cura della famiglia e quindi e quindi in qualche modo si sacrifica no in realtà secondo me non c'è questo questo non lo so vedendo un po' tutte intervistando anche queste donne vi faccio qualche esempio perché non è così appunto scontato no a dire però non dobbiamo legare vogliamo dire che la donna è ambientalista per così dire per natura perché altrimenti vogliamo dire che la donna è angelo del focolare per natura in realtà non è assolutamente la stessa cosa perché ad esempio una delle donne che ho intervistato questa è una signora di Brescia dice abbiamo iniziato a far politica dal basso e essere un esempio di cittadinanza attiva dice le mie figlie intanto crescevano le coinvolgevo ma allo stesso tempo ero tormentata dai sensi di colpa non era facile conciliare tutto mio marito non sempre comprendeva il mio impegno e mi accusava di stare poco in casa mi sentivo in colpa perché pensavo di trascurare la famiglia di perdere tempo per cause perse negli anni però sono riuscita a superare i sensi di colpa ho capito che non dovevo essere per forza un angelo del focolare che il fuoco ce l'avevo dentro ed era giusto che lo seguissi il fuoco dell'attivismo che mi spingeva a occuparmi non solo delle mie figlie ma dei figli di tutti del bene comune che forse ha il senso più profondo e vero dell'essere madre quindi è un po' una maternità che è possiamo dire è universale e è veramente molto emancipata dall'essere madre biologica e anche possiamo dire anche dall'essere donna nel senso che è una cosa che anzi che dovrebbero sentire anche gli uomini no ecco e ugualmente appunto ci sono testimonianze di donne che ad esempio invece scelgono di non diventare madri proprio perché razionalmente non vogliono non vogliono passar veleni al figlio donne di Taranto che appunto non non se la sentono no di diventare madri ecco quindi ecco non so se riesco a rispondere però io in realtà ho visto proprio il contrario cioè è l'attivismo anche nella mia vita devo dire è proprio l'attivismo il fatto di spingersi anche a livelli alti perché non si ecco la cosa importante è che queste lotte non devono limitarsi ad essere delle lotte eh così dire per il proprio cortile per i propri figli e poi se l'inquinamento se la fabbrica si sposta poco più là e i miei figli sono salvi allora non mi interessa niente ecco questo qui non è la vera emancipazione no questa non è è come dire la donna deve occuparsi del proprio orticello punto invece bisogna proprio queste lotte molto spesso da lotte locali diventano lotte globali e quindi è proprio l'importanza di è proprio in questo modo c'è un'emancipazione di queste attiviste e come diceva anche Ermelinda di anche collegamento perché ovviamente non si tratta mai di gruppi unicamente femminili no la maggior parte dei comitati comunque sono misti e quindi ecco è proprio una anzi è proprio che la donna da queste lotte che possono essere possono sembrare inizialmente di cura no di così dire angelo del focolare in realtà vanno a livelli molto superiori ovviamente di insurrezione non si tratta di seguire quel modello ecco questo sì maschilista e patriarcale no che è quello di la donna in carriera che però magari è la la nostra premier oppure una dirigente di multinazionale ecco ci sono ovviamente donne di questo tipo è ovvio cioè quindi non vuol dire che tutte le donne sono amanti della natura o assolutamente no è proprio quel anzi seguire questo modello è proprio nella nostra società no tu ti senti una donna realizzata se hai raggiunto quei livelli anche di devastazione della natura quindi insomma è qualcosa secondo me appunto come diceva Alice è una qualcosa che dobbiamo una sensibilità di empatia con la natura sentirci tutt'uno con la natura che dobbiamo ritrovare dalle dalle culture indigene dalle culture non occidentali proprio da queste culture nasce nascono importanti movimenti di donne ricordiamo Rigoberta Menciù ricordiamo le madri le madri di piazza di maggio ecco e sono proprio loro che ci insegnano un modo diverso anche di di vivere di vivere il rapporto alla natura il rapporto ai anche a tutte le ingiustizie sociali e la grande forza appunto delle donne non so se mi sono spiegata è un discorso veramente molto complesso benissimo grazie grazie a Linda e scusate se sono rapida però abbiamo i tempi ormai si stanno giustamente allungando perché siamo tante diciamo tante cose diverse interessanti passo la parola a Ermelinda sempre un po' sullo stesso che dicevo prima sì si sono aperte insomma è stata messa parecchia carne quindi è difficile un po' intervenire sinteticamente però io sono qua con alcune compagne anche quindi interagiamo tra di noi e se mi avete visto fare anche delle facce insomma è per quello e noi abbiamo mi hanno suggerito abbiamo uno slogan qua uno striscione col quale apriamo tutti i nostri ultimi cortei che è siamo la natura che si ribella quindi tutta questa discussione sulla donna è naturalmente vicina alla terra e così poi insomma più di tanto secondo me diventa teorica nella pratica c'è che dobbiamo attivarci per noi per amore nostro poi chi ha dei figli e vuole farlo anche per amore dei figli io non ho figli lo faccio per amore delle figlie dei figli dell'umanità e l'importante è che dobbiamo attivarci perché nessuno lo farà al posto nostro perché tutte queste lotte poi in comune che cos'hanno in comune hanno il modello di sviluppo perché c'è molto dolore nell'intervento della donna che parla dei FAS c'è molto dolore proprio sentirla invece noi non dobbiamo avere il dolore dobbiamo trasformare questo dolore in qualcosa che ci porti da qualche parte e pensare che anche non so le istituzioni che sono quelle che hanno creato le condizioni perché poi le persone abbiano il FAS nel sangue avere fiducia in questo va bene soprattutto a livello territoriale e locale però sappiamo benissimo che dobbiamo essere noi le paladine di queste lotte in prima persona noi comunità maschi e femmine non possiamo aspettarci molto da chi ha creato il danno è come se noi chiedessimo a quelli che propongono il TAV di aiutarci a mitigare i danni che farà poi lo scempio del TAV dobbiamo attivarci ora non dobbiamo pensare al futuro dobbiamo pensare al presente quindi siamo la natura che si vivella facciamoci forza della potenza della natura della potenza della terra della potenza riproduttiva delle donne che sia una forza non un limite non un'occasione per essere sfruttate come corpo delle donne come corpo della terra siamo molto di più siamo anche molto più potenti cerchiamo di rendercene conto e soprattutto capire che dobbiamo agire ora ora io poi vi chiedo scusa perché devo andare è un argomento molto importante sia dal punto di vista della nostra lotta sia dal punto di vista di noi come donne come ci rapportiamo tra di noi che cosa pensiamo in fondo in fondo di noi spero che possiamo fare anche questa discussione magari vedendoci in Val di Susa prossimamente quindi vi saluto e vi ringrazio grazie Melinda avanti Notav sempre comunque qua le bandiere di Notav stanno sventolando ovviamente da mesi sui boschi la Nero Seca Alte vi mandiamo un grande abbraccio abbiamo imparato da voi che ci proteggiamo da sole costruendoci una rete insieme dal basso grazie grazie a voi arrivederci invece a me la domanda un po' imbarazza imbarazza perché diciamo così io non mi sento una casalinga non mi sento l'angelo del focolare non mi sono mai sentita concordo pienamente con quello che ha detto Linda e con quello che ha detto Ermenina concordo pienamente sul discorso di noi donne che dobbiamo reagire qui ora subito che non viene dall'istituzione niente però io non lo so che cosa mi ha spinto ad andare a parlare con i ragazzi se la mia competenza di dirigente scolastica se la mia competenza di insegnante o in quanto donna io non lo so so che quando vado con loro mi si apre un mondo un mondo di speranza so che quando vado da loro do insieme ai miei esperti una staffetta quello che noi diciamo quello che noi ci presentiamo del sapere del prendere coscienza e dell'agire lo fanno loro ed è questa è la nostra scommessa perché loro diventano i promotori di un altro movimento noi cediamo lo scettro del sapere della riflessione e dell'agire ripeto io condivido il fatto che non sono gli altri che ci dobbiamo muovere e condivido il fatto che noi donne abbiamo una sensibilità superiore ma detto questo nella scuola certo non c'è la differenziazione di genere nella scuola parliamo di One Health un'unica salute un'unica salute che riguarda tutti gli esseri viventi dalle persone agli animali e parliamo dicendo che tutto è interconnesso che tutti siamo convolti che non che non può non possiamo vivere bene in un ambiente ammalato i ragazzi le ragazze ne prendono coscienza e continuiamo la battaglia perché noi invece la consideriamo una battaglia non ancora vinta con l'obiettivo generale per quanto riguarda il problema specifico del bando dei FAS ma sappiamo abbiamo firmato le petizioni come associazione Cils siamo uno dei 120 organismi europei che l'hanno firmata ma non è che ci fidiamo molto della politica non sappiamo quando arriverà questo bando dei FAS troppi interessi di mercato troppi interessi di profitto non so se il sistema capitalistico ce ne darà e allora noi siamo più realisti e questo non solo come donne siamo più realisti e cerchiamo l'unione fra gli attivisti Cilsa farà anche un incontro con gli attivisti veneti rendiamo visibili questi nemici invisibili che sono i FAS chiediamo come legge popolare magari vediamo se viene approvata da tutti gli attivisti veneti una legge popolare che obblighi chiunque a mettere nelle etichette anche privo di FAS o con FAS saranno i cittadini a scegliere e questo lo proponiamo anche ai ragazzi Schio l'istituto del preto di Schio ha già cominciato a fare un'indagine sul mono sull'imballaggi sulle carte da pizza che usano i ristoratori di Schio e controllano le schede tecniche chi le produce e chiedono di mettere Zero FAS non solo poi vanno dai ristoratori e dicono se voi mettete il Zero FAS noi vi facciamo pubblicità questo è l'azione ragazze ragazze e questo è il futuro speriamo io dico e ribadisco quello che ho detto prima ma con un pensiero conclusivo il bene il bene mio è il bene di tutti quello che parte da una protesta che può partire da una protesta deve poi essere un lavoro un lavoro di un'azione di dialogo per indurre a fare che il bene mio sia il bene di tutti le istituzioni sono quelle che devono agire per fare che il bene venga prodotto pensiamo ai controlli pensiamo all'organizzazione dei controlli che vengono sul territorio la politica è il prolungamento dei cittadini perché siamo noi che li abbiamo votati e loro sono lì che devono in qualche modo agire secondo il nostro pensiero allora è giusta la protesta è giusta perché si parte e si esprime il nostro volere però poi con il dialogo e con il lavoro si deve indurre a fare che la politica rappresenti tutti ecco quindi per noi non c'è il bene comune non ha una bandiera politica non è di destra non è di sinistra non è di centro è di tutti e a loro chiediamo l'azione concreta ma perché loro sono il nostro prolungamento cosa mi auguro mi auguro che questo avvenga avvenga attraverso appunto una razionalità e che venga attraverso va bene l'iniziativa è femminile perché forse oggi ho capito che può essere un indole prima ma se è è bene di tutti è anche dell'uomo ma anche di chi non è madre ma anche di chi è giovane è bambino è vecchio anche se uno è dopo guardiamo le professioni medico non medico insegnante insomma è di tutti grazie a tutte le nostre ospiti grazie a Linda che ha dovuto appunto cioè nonostante l'odissea per riuscire ad arrivare da Faenza a Bologna e poi tornare indietro comunque è stata con noi e grazie ovviamente a tutte le persone che stanno contribuendo alla difesa la tutela di questi boschi che sono anche probabilmente un'espressione di quel non umano di cui prima parlava Linda che agisce perché se non ci fossero stati quei boschi noi non saremmo qui a provare a difenderli a contribuire alla loro difesa su rispetto a alle intenzioni di Irica del governo e di tutto quanto quello che sapete benissimo e di cui abbiamo parlato in questi giorni per cui è importante continuare a stare qui anche domani dopo domani nei giorni seguenti stare qui significa partecipare all'assemblea del bosco come ricordava prima Marta sono ogni martedì alle 19 e vabbè ok certo direi che assemblee ne abbiamo fatte in questi giorni quindi ogni martedì alle 19 qui e speriamo che anche la discussione di oggi che è stata ricca di punti di vista differenti magari per noi militanti anche attraverso un linguaggio che non per forza ci appartiene per chi invece arriva da altre esperienze con un linguaggio che non le appartiene non conosce ma poi attraverso queste contaminazioni che cambiamo e riusciamo a costruire qualcosa di più grande di più forte e che sia difesa dal basso dei nostri territori e di questa piaduna parana che ci sta facendo sudare tantissimo per chi vuole c'è la cena ovviamente stasera e poi dal pubblico ok va bene grazie mille e buona serata grazie mille